Pari e patta alla Matteini nel big match tra Terranova, Traiana e Scandicci, quart'ultima giornata del girone B di eccellenza. Terranova, Traiana, reduce da 5 vittorie consecutive al secondo posto con 55 punti, migliore difesa del campionato con 12 reti al passivo, 2 sole delle quali subite in casa. Gli stessi punti lo Scandicci ma con una gara in più. Fiorentini reduce addirittura da 10 risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 3 pareggi, 4 vinte nelle ultime 4 all'andata, vittoria della formazione in maglia blu per 3 reti a 1. In palio la seconda posizione, la migliore posizione nella griglia playoff. Dopo le schermagne iniziali ci prova lo Scandicci, approfittando, cercando di approfittare di un errato disimpegno della retroguardia terranovese. Vezzi conclude solo davanti a Fedele l'estremo difensore bianco-rosso a branca senza problemi. Ci prova poi Andrea Massai, salva Masini, l'estremo difensore dello Scandicci. Ancora Terranova Traiana sugli scudi, ci prova prima Sacconi e in qualche modo Masini riesce a sportare la palla, poi Cappelli sotto misura del Pela, salva sulla linea clamorosa. L'occasione per il Terranova Traiana. Risponde lo Scandicci sui sviluppi di una calcio d'angolo senza grosse e pretese sarà l'unico corno dei blues in questa gara. Ancora la formazione di l'entrice, le schermagne da parte di Poli e compagni però non sortiscono effetti, si va all'intervallo sullo 0-0. Ripresa! Ancora Terranova Traiana, Marini va sul fondo, la rimette a centro, porta, gira di testa Massai, la palla va sul fondo. Petrioli assist verso Sacconi che prova a eludere il controllo di Edumenge, il diagonale del capitano bianco-rosso però si spegne alto sopra la trasversale. Ancora Terranova Traiana che prova a premere, Marini che si accenta, scarica il sinistro, anche questo, altissimo con Masini, attento. Terranova che prova a passare, bianco-rossi che però non hanno fortuna, si avvita di testa Sacconi, palla alta sopra la trasversale. Prova a rispondere lo Scandicci, la formazione ospite trova soltanto questa conclusione con Corsi. Fedele è attento. Ancora Terranova Traiana nel finale, ancora una conclusione di Massai che termina sul fondo. Privitera dalla distanza, non trova il bersaglio grosso. Finisce 0-0 tra Terranova e Scandicci, la quart'ultima del campionato di eccellenza, ottavo pareggio stagionale per la formazione bianco-rossa che resta appaiata allo Scandicci. Con pagini del Terranova e dello Scandicci raggiunte dal segno vittorioso nel derby contro la Lastreggiana. Tre giornate dalla fine, Scandicci-Teranova e segna 56 punti. Lotta a Cerrima per la seconda posizione. Domenica alle due strade, Terranova-Traiana impegnata a Sirenze contro la Rondinella-Marzocco. Ultimi 270 minuti della stagione regolare. Necessario. Lavitto.